Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. La costituzione è stata approvata da tutti i collegiali. Grazie. Ma la felicità di Prescilla per il lavoro appena concluso dura giusto un attimo. C'ho un po' di casino in testa. Papà, dopo che gli ho dato tutto quello che potevo, mi ha lasciato per messaggio. Prima di entrare qua, undici mesi. Il punto è che ogni tanto continuo a starci male. Ci ripenso, però che ci devo fare? Comunque sono stati undici mesi, ho provato tante cose. Sono stato bene, come sono stato male. E speravo che sta qua dentro, tipo, mi chiudesse qua dentro e il fuori non esiste. Se lui comunque pensa, anche se ogni tanto, a un'altra persona, cioè io non capisco il fatto di come riesco a essere così libero nei miei confronti, no? E quindi è una cosa importante che comunque, vabbè, me ne abbia parlato, perché, vabbè, anche se secondo me doveva parlarmene già prima. C'ho tanti punti interrogativi che non riesco a trovare risposta. In questo momento, Damiano Severoni non è il solo ad avere tanti punti interrogativi in testa. Avanti! Buongiorno! Avanti! Buongiorno! Questa mattina mi avete fatto fare una pessima figura, si può. Davanti alla fanfara dei bersaglieri che vengono fin qui, suonano, corrono, cantano per voi e voi zitte. Adesso vediamo, avete un po' studiato, sapete le parole, eh? Più di prima, sicuramente. Ci vogliamo provare? Io do l'attacco. Fratelli d'Italia, Italia sedesta. È difficilissimo cantare l'inno con Elisa a fianco. Ma c'è la pausa. Fratelli d'Italia. Perché lo canta un po' tutto a modo suo e quindi non riesce a capire le note. Sì. Da capo, pronti? Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia. È irrimediabile. Fratelli. Pausa. D'Italia. Pausa. Eh! Da capo. Fratelli d'Italia. Sei d'Italia sedesta. Scogliamillo. Della erba di Scipio. C'è cinta la terza. Ferva lì. Dove la vittoria le borga la chioma. 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 Cos'è la chioma? Coda. Idiolacchio. Sento che, guardi, lei è meglio che non canti mai in presenza di corteggiatori, fidanzati, mariti perché fuggirebbero a gambe levate. Secondo me, il President dovrebbe dare tipo a farci una festina all'orecchio perché non è sempre bello. Ce la siamo cavata con molta fatica. Buona giornata. Grazie. Arrivederci. Oddio, mamma mia. È stato umiliante. Hai insultato il mio canto. Io mi sono offesa. Io canto come uno signolo. Signolo. Signore. Io mi sonoeldato. Signora che vorbe. Signora siamo nulla devoluitare. ixo un impianto. No ann inconsistent. Intentare via l'occamac dell'occamac。 Uhut. Grazie a tutti